Un dramma terrificante ha colpito lo zoo di 105, degli squilli a vuoto. Cazzo non rispondo. È a pezzi, è a pezzi. A pezzi, è a pezzi. È occupato. È grave sta roba. Un silenzio preoccupante. L'assenza del piru 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 piru. Nessuna informazione. Nessuna notizia. Solo uno squallido e freddo. Squillo del telefono. Che fine ha fatto DJ Anthony? Dov'è finito? È stato rapito dagli alieni per analizzare le sue grandi capacità di DJ? È stato assoldato dall'usquarna per partecipare ai mondiali di motocross. Dov'è? Dov'è? Che fine ha fatto? Dov'è? Che fine ha fatto? Dov'è finito? DJ Anthony. Pronto? Onoranzi e funebri? Sì. Sì, buon pomeriggio. Salve. Senta, io la chiamo da Milano. Io sto cercando di rintracciare una persona che purtroppo non riusciamo a rintracciare nemmeno tramite gli ospedali. Volevamo sapere, a lei risulta deceduto a Rende o nella città di Rende un tale signor Antonio? No, ma non ce ne sono. Poi ieri sono stato in ospedale per un servizio e non ce l'ha nemmeno. Cioè non risultava un u**o Antonio? No. Che fine ha fatto DJ Anthony? Dino, buonasera. Sì, buonasera, salve. Senta, noi stavamo cercando un contatto per un riferimento alla Telecom, buonasera signora. Per un riferimento di un numero di Rende. Voi avete parenti a Rende? No. Pronto? Sì, buon pomeriggio alla Telecom. Pronto? Buon pomeriggio alla Telecom. Potrebbe essere della famiglia. Occhio. Pronto? Sì, buon pomeriggio. No, non la chiamo per una promozione, la chiamo per un problema. Le chiedo collaborazione due minuti solo. No, non voglio nessuna collaborazione. Non ho niente a che vedere. Con la Telecom non mi avete rubito. No, mi serve la sua collaborazione. Non che gli do la collaborazione. Mi serve la sua collaborazione. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, che c'è? Salve, la Telecom. Non mi interessa niente. No, devo chiedere... No, no, le devo chiedere solo un'informazione. Non voglio sapere niente di vostri problemi, ma a me non me ne frega niente. Ma ho bisogno di sapere se lei conosce Antonio Arende. No, cazzi miei si conosce qualcuno. Almeno gliene frega un cazzo. Arrivederci. Ma, mi scusi, ma... Dove è finito? DJ Anthony. Salve, senta, io sono della Telecom e avevo bisogno di un'informazione. Sto cercando un certo Antonio Arende di Rende. Ma c'è omertà, mi sa. Cazzo, ci hanno sgamato, eh. Questo è un complotto. Lo stanno difendendo, capito? Lo nascondono. Sì, salve. Senta, io avrei bisogno di un'informazione. Ma cacate la cazzo, no? Che fine ha fatto DJ Anthony? Pronto? Sì, salve, buonasera. Sono della Telecom, operatore 5510. Sì. Salve, io, senta, qui c'è, forse abbiamo avuto un problema di bollette. E perché stiamo cercando un certo Antonio Arende di Rende. Non so se lo conosce lei, se è suo parente. No, no. Eh, perché si è, c'è la sua bolletta, adesso la deve pagare lei. Eh, ma sicuramente lo conosco, quindi non pago nulla. Giusto. La ringrazio. Arrivederci. Cazzo che cominci. Eh, boh, c'è, l'hai detto, non lo so giusto. Aiutateci a ritrovarlo. Merda!